Ciao Hey Fitz Ciao Sister Chlemy Che c'è? Jack, dov'è? Ho saputo che è stato investito da una macchina E tu come fai a saperlo? Non ce l'ho fatta frenare Sponsored a perang... Chine di film shirts Ehi, Gin, ma che stai facendo? Sei stato tu a dirmi di arrivare spedito. Ehi, Gin, arrivare spedito è un modo di dire. Mai sentito. È tutto il giorno che ti cerco, ma dove ti hai ricacciato? Scusami, Fizio, non te neanche ho detto nulla. Oggi, purtroppo, sono dovuto andare dal dentista, sai, mi ha messo un ponte. Dai, fa male mettere il ponte, eh? Sì, ma non è tanto il ponte, è più l'inaugurazione con la bottiglia. Accidenti a quell'assessore, Fizio. Era un magnum da 30 litri, tre volte prima che si rompesse. Ormai era finita anche l'anestesia. Dimmi un po'. Flacco? Flacco, Flacco è morto. Fizio, che razza di domanda mi fai? Non sai nulla. Si è lanciato dalla finestra di casa sua. Ma si abita a pieno terra? Si è lanciato più volte. Ah, povero Flacco. Povero Flacco. Sono sempre migliori quelli che se ne vanno. Ci vediamo, ciao. No, 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 Gio. No? Sono sempre migliori quelli che se ne vanno, è un modo di dire. Mai sentito. Non hai mai sentito? Prima ti ho detto, vieni spedito, è un modo di dire. Adesso sono sempre migliori quelli che se ne vanno, è un modo di dire. E non hai mai sentito. Mi dispiace, Fizio. Né uno né l'altro. Non ti offendere, no? No, non mi offendo. Ma non conosci i miei modi di dire, allora? Questi due non li ho mai sentiti. Allora sentiamo uno dei tuoi. Ciao. No. Sì? No. Che bel bambino, sì. Che bel bambino. Signora, ha un bel... No. Che bella giornata. Sì? Non vale così. Il modo di dire non è questo. Il modo di dire è una frase che intende un concetto ma ne sottintende un altro. Chiaro? Rosso di sera. Rosso di sera. Meglio fermarsi. Eh? Sì, io mi fermo sempre col rosso, Fizio. Sempre, sempre col rosso mi fermo. Sempre. Anche col giallo a volte. Guarda, ultimamente mi fermo anche col verde perché sono passato col verde. Passava uno col rosso di sera, mi ha centrato, quindi preferisco non rischiare. Rosso di sera. È un modo di dire rosso di sera. Bianco col pesce. Che bianco col pesce? Ma non è un indovinello, è un modo di dire rosso di sera. Rosso di sera. Non lo conosci. Non lo conosco. La gatta all'ardo, avrai sentito dire della gatta all'ardo, no? Quando va la gatta all'ardo? Quando va la gatta all'ardo? Cosa? La gatta all'ardo. Quando va la gatta all'ardo? Giovedì, va. Giovedì, va. Giovedì, certo. Immagino giovedì perché venerdì pesce. Quindi grasso, giovedì grasso, lardo e venerdì pesce. Ma davvero non conosciamo di dire? Questi non li ho mai sentiti. Ma possibile che non hai mai sentito, Gin? Chi la fa? Ma che vergogna ti fece? Ma cioè, cosa, vieni a chiedere certe cose? Io mica chiedo i tuoi parenti quando la fanno? No, scusa un attimo. Occhio per occhio. 60 quacchio. Vabbè, basta, finiamo la cosa. Ma è possibile che non conosci i modi di dire? Questi non li conosco. A proposito, stanotte ho fatto fuori Victor. L'ho fatto fuori col veleno. Fizz, ma se l'han trovato con la testa rotta. Non riuscivo a aprire la boccetta. Ma che hai da guardare? Che ho da guardare, Fizz? Hai pure il coraggio di chiedermelo. So tutto. Tu sei stato a letto con mia moglie. Come fai a saperlo? Mi tiravate tutte le coperte. Non sono nato ieri. Lo so. Ci siamo visti sabato. Ehi, ma ti hanno detto di Bob? Bob? Non sai niente. Non so nulla. Bob ha fatto un incidente con la macchina. Accidenti, è grave. No, 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 non sei fatto niente. Però l'incidente è assurdo. La dinamica dell'incidente è dell'incredibile, povero Bob. Pensa, e gli è entrato un'ape mentre guidava la pori. E la punto. Potresti ripetere, per favore? Certo, Bob, il nostro Bob, ha fatto un incidente in macchina. Assurdo. Un'ape. E' entrata un'ape mentre guidava la Porsche. E la punto. Quale macchina stava guidando quando è entrata l'ape? La Porsche. Ah. E la punto. E che patente ci vuole per guidare due macchine contemporaneamente? O la B, o la A, la BC. La, la BC. Due macchine contemporaneamente. Ma guarda che Bob non stava guidando due macchine contemporaneamente. Ah, una la trainava. Ma che trainava? Ma che trainava? Ma perché non capisci quello che ti dico? Lascia perdere le macchine. Pensa all'ape. C'era anche un'ape car. Tre ha tentato di guidare. E ci mancherebbe altro. Poi arrivi qui e fai quello stupito perché ha fatto un incidente Bob. Cioè, voglio dire, tre macchine sono tante. L'ape. Non l'ape car. L'ape. L'ape. Come lo chiami tu quell'insetto nero con le righe gialle? La Vespa. Cosa c'entrano i motorini adesso? L'ape. Bob ha fatto un incidente perché gli è entrato un'ape. Gli è entrato un'ape. Gli è entrato un'ape. A Bob è entrato un'ape mentre guidava la Porsche. E l'appunto sotto l'Apolo. C'era anche una Volkswagen, non c'era? Guarda, una pizza. Ma è una roba incredibile. Poi ti... Ma lui addirittura poi si chiama Bob. Cioè, scusa un attimo, diventerebbe... Sei mezzi, no? È possibile. Sei mezzi non ce la fa nessuno. Ma gli è entrato un'ape mentre guidava la Porsche. E l'appunto sotto l'Apolo. Qui su una duna per evitare un panda. Poco dopo una marea. Punto. Se hai una pistola spara, mia cazzo. Stop! Ma no! Ma che è sta cagata? Ma ragazzi, ma non si fa così? Cosa, eh? No, no, guarda. Siete due cani. Veramente... Tu ancora ancora? Ma tu proprio, veramente abbaio. Maestro. Ho sentito abbaiare fuori. Dove hanno portato i cani in studio? Eravate voi, eravate. Ma insomma, dai, non si fa... Le battute vanno dette chiare, intenzionali, guardandovi negli occhi. Eh, dai. Allora, vi faccio vedere, va bene? Va bene. Allora, per dire, no? Dammi la battuta. Sì. Rimettiamo la musica o... No, scusi maestro, per entrare nel clima... Ma non sono capaci queste qua. Lascia di stare che è meglio. Va bene, dai, proviamo maestro. Dai, ma come si sono vestiti questi qua? Non lo so io, ma... Allora, le do la battuta maestro. Vai. Allora, dimmi, com'è andata la rapina? Malefiz. Stavo trapanando il cavo della banca quando ho sentito le sirene della polizia. Allora ho preso il trapano e sono scappato. Mi sono nascosto, ma la polizia mi ha beccato. Ma come ha fatto? Ha seguito la prolunga. Hai capito? Hai capito come si fa? Sì, sì, sì. Maestro, maestro. Vado? Vai, adesso. Provati insieme. Dai, ok. Vai. Ehi, Gin. Ho saputo che Vladi è morto. Certo, Fezz. Sono stato io. L'ho fatto schiantare da 80 metri. 80 metri? Sì. Ehi, spiaggia, prendere il sole. Gli ho fatto una buca di fianco al lettino. Ah. E hai l'alibi? Sì, ho ridato la paletta a suo figlio. Ha detto qualcosa Vladi prima di morire? Dove sono i miei zoccoli? Era molto attaccato alle sue cose. Soprattutto agli zoccoli. Bavi, ma è meglio. Molto meglio. Adesso andiamo alla scena finale. Sì. Però qui ci vorrebbe un attore. Un attore vero. Un attore con la maiuscola, no? Come voi. Scusate. Dove? Eccolo qua. Oh! Finalmente! Finalmente un attore vero! Un attore professionista! Bravo, bravo Maurizio! Allora, dai. Adesso, adesso, tu hai una bella faccia. Bravo. Grazie, anche tu. Tu no. Do la battuta al maestro. Allora, dai, cominciamo la scena. Dai la battuta. Ciao, Maurice. Ciao, Fitz. Arrivo adesso da Napoli. Hai fatto quel lavoro? Sì. Ho fatto fuori Ciro. Gli ho messo dell'acido nel caffè. Così non è corretto. Lo so. Lo so, lo so. Corretto è con la grappa. Ma cosa c'entra, sottotitoli della grappa? Come cosa c'entra? Caffè? E ammazza caffè. Ottima! Bravissimo! Dai, data matti così. Dai, data matti così. Dai. Azione, azione! Eh, ragazzi. Ragazzi, sapete che ieri sera Frank ha rapinato la banca centrale? Accidenti! È una notizia fantastica. Bellissima. Fizz, ce lo dici soltanto adesso, ti stai dicendo che finalmente Frank ha rapinato la banca centrale. Bravo Frank. Chiedili com'è andata. Com'è andata? Bene. L'ha fatta Franca. Non ho capito, cosa? Frank ha fatto la rapina. La rapina alla banca centrale? Scusa Fizz, non avevi detto inizialmente che Frank aveva fatto la rapina alla banca? Eh, eh, è quello che ho detto. Frank ha fatto la rapina alla banca centrale e l'ha fatta Franca. E qua, 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 che va bene. E l'hanno arrestata lei? Eh, l'hanno arrestata? Ma lei chi? Franca. Eh? Di tu. Franca. Franca. Ma chi è sta Franca? Ma chi è sta Franca? Forse stiamo avvicinandoci a un modo di dire? Ascoltate. Non ho capito. Chi è c'è? Chi è Franca? Chi è il modo di dire? Ehi. Non capito? Frank ha fatto la rapina alla banca centrale e l'ha fatta Franca. Nel senso? No. Che Frank è salvo. E perché si fa chiamare Frank? Ma chi? Salvo. Ma cosa c'entra Salvo? Tu continui a cambiare nome? Quello dice gente, gente in mezzo, continua a me. Frank ha fatto la rapina a banca e l'ha fatta Franca. Nel senso che Frank è salvo, salvo e sano. Ah, c'è pure un giapponese. Giapponese, certo. Ah, ho capito. Sano Yoko Tama. Yoko Tama. Un bravo ragazzo, te ne ricordi? Sì, sì. Come l'ho. Il Kawasaki, che aveva detto che l'aveva rubato a te. Sì, è vero, infatti era vero. Ma perché non capite mai quello che vi dico? Questo non è vero. Ah no? No, non è vero. Ah no? Noi capiamo. E l'altro giorno, allora, durante la rapina in banca, se siete stati gli unici due idioti che siete entrati, vi siete tolti il passamontagna. Fitz, ti vogliamo ricordare che sei stato tu a gridare ragazzi entriamo e facciamogli vedere chi siamo. Ma ciao, come si fa col passamontagna? Ehi, voi due. Sì. Se c'è una cosa che mi piace di voi, vi chiamo, eh? Stop! Ottima! Buona! 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 Buona!